Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noisis. Oggi affronteremo una scuola di filosofi, la scuola di Chartres. La scuola di Chartres è una scuola filosofica nata nel XII secolo in Francia, a Chartres, e avrà tantissimi esponenti, avrà tantissimi filosofi di spicco. Noi ne tratteremo solo alcuni, solo i principali in questa puntata. Ma diamo un paio di rine guida di questa scuola. La scuola di Chartres è una scuola a stampo platonico, si rifà al platonismo e, come vedremo, all'interno della scuola saranno trattati tantissimi problemi. San Bernardo parlerà della grammatica, Teodorico della cosmogonia, Gilberto Porrettano parlerà della metafisica. Quindi tutti i grandi esponenti si specializzeranno, ognuno, in un problema filosofico. Ma vedremo che c'è qualcosa che li tiene insieme, c'è qualcosa che li unisce, e cioè il riferimento costante a Platone. E questo segnerà anche un po' la fine della scuola di Chartres, in quanto nel secolo subito successivo poi verrà scoperto Aristotele. Aristotele che era già conosciuto, intendiamoci, ma solo alcune delle sue opere. Quando sarà invece scoperto in tutta la sua grandezza, il secolo dopo, Platone verrà un po' dimenticato. Ma immergiamoci subito all'interno della riflessione filosofica con San Bernardo di Chartres, cancelliere della scuola dal 1124 fino al 1130. Bernardo è un grammatico, ma il grammatico non è come ce lo immaginiamo oggi. All'epoca era una figura molto importante all'interno della scuola perché spiegava la letteratura classica antica, spiegava il gusto, spiegava lo stile ai propri allievi e formava proprio la coscienza morale dello studente, quindi aveva un ruolo importantissimo. E in quest'epoca invece il grammatico si evolve, diventa come lo vediamo noi oggi, cioè colui che si concentra sullo studio della lingua, sulle regole grammaticali, perché? Perché iniziano a emergere nuovi problemi legati alla lingua. Bernardo li affronterà, sarà uno dei primi ad affrontarli. Quindi ci sarà una decadenza della cultura classica, dell'insegnamento della letteratura classica in favore della grammatica, dello studio della parola e nascerà una vera e propria disciplina, la grammatica filosofica. La grammatica filosofica che si poneva dei veri e propri problemi filosofici, uno di questi era come si veicola il significato attraverso le parole. Cos'è che veicola il significato? Bernardo faceva tre esempi. Noi abbiamo nel nostro mondo dei sostantivi, dei verbi o degli aggettivi. Ovviamente in queste tre categorie il più importante è il sostantivo, tanto che deriva dalla parola sostanza, che è la categoria più importante. Senza sostanza non esisterebbero né le azioni, cioè i verbi, negli aggettivi, gli attributi che si riferiscono alla sostanza e la sostanza e il sostantivo poi fa derivare i suoi significati anche alle azioni e agli aggettivi. Facciamo un esempio per capirci meglio. La bianchezza, che è un sostantivo, si comunica all'azione, al verbo, che è imbiancare, io in bianco. E poi si comunica anche all'aggettivo bianco qualcosa è bianco. Così la stessa cosa per bellezza. La bellezza si comunica prima, si deriva, si fa derivare prima nel verbo imbellettarsi, poi nel suo aggettivo essere belli. Ovviamente se il sostantivo ha una forma pura, ha una forma immacolata, la bianchezza, la bellezza, invece si comprometterà, si sporcherà prima nell'azione, imbiancare, imbellettarsi, e poi si sporcherà nell'attributo, nell'aggettivo essere bianco. Ovviamente questa è una categorizzazione, ci sono i sostantivi e poi ci sono i verbi e gli attributi, che ricorda molto Platone. Le idee di Platone infatti sarebbero i sostantivi e invece le copie, il nostro mondo, il mondo della materia decadente, sarebbero gli attributi e infine i verbi. Ma ora passiamo a un altro grande esponente della scuola di Chartres, Teodorico di Chartres, che era fratello di Bernardo e lui si preoccuperà dei problemi cosmogonici, cioè inerenti alla creazione del mondo. Teodorico è il più rivoluzionario pensatore della scuola. Teodorico infatti cercherà di incrociare e di conciliare da un lato la genesi, la creazione, era chiusa nel libro della Bibbia, con il timeo di Platone, che era un racconto, una delle ultime opere di Platone in cui si cercava di dare una spiegazione razionale alla creazione del mondo. E Teodorico arrivava alla conclusione che nella natura ci fosse una razionalità intrinseca e quindi che non si poteva spiegare tutti i fenomeni della natura con è stato Dio a crearli, è stato Dio a generarli, ma pensava che dopo la creazione Dio avesse messo nella natura le leggi che spiegassero i fenomeni naturali come la pioggia, i venti, eccetera. Insomma si veniva a creare un vero e proprio punto di vista naturalistico. La natura va studiata a partire dalle sue leggi naturali e dalle sue cause. Questo approccio scientifico, matematico in alcuni casi, alla natura però non avrà eredi, perché nel secolo dopo, come vedremo, risorgerà l'aristotelismo. Di Aristotele verranno scoperte tutte le sue opere, verranno scoperte anche le opere cosmogoniche sulla generazione del cosmo e le ipotesi platoniche saranno riesumate solo nel XIV secolo. La scuola di Chartres quindi è un bellissimo fiore, una bellissima rosa di speculazioni e di menti, ma che poi verrà piano piano subissata, dimenticata. L'ultimo pensatore che affronteremo, faremo un piccolo accenno, è Giovanni di Sallisbury. Giovanni di Sallisbury non scriverà delle opere particolarmente, dei trattati particolarmente rigorosi, e questo sarà anche un po' il problema della scuola di Chartres, ma anticiperà quello che sarà lo stereotipo del genio rinascimentale, come dice Girson nella sua opera. Giovanni di Sallisbury ha una simpatia per gli scettici, soprattutto per quel periodo dell'accademia platonica in cui proprio gli scettici l'avranno da padrone. Ovviamente Giovanni non difendeva uno scetticismo radicale, diceva tutti possiamo sapere e conoscere che un uomo è più intelligente di un animale, che un uomo è detrato di ragione e un animale no, e quindi tutti possiamo arrivare anche solo con questa semplice considerazione a dire che esiste una conoscenza, al contrario di come dicevano invece gli scettici, che si deve dubitare di tutte le conoscenze. Però Giovanni diceva che lo scetticismo ha questo grande lato positivo che preserva dalla saccenza, che preserva da quella follia della ragione che, portato allo stremo, arriva pure a contrapporsi a Dio stesso. E questo ce lo ricorda il mito della torre di Babele, della Bibbia appunto. L'uomo deve rimanere umile, deve ricordare, ripetersi quel motto socratico, io so di non sapere. Questi sono un po' i punti, i tratti, i personaggi di spicco della scuola di Chartres. Dedicheremo una puntata intera, la prossima puntata, a Gilberto Porrettano, a una sua opera, al commento Boezio. Questo lo farò, un po' farò una lezione un po' più approfondita, un po' per chi vuole immergersi all'interno del metodo speculativo filosofico medievale. E appunto per fare questo esperimento ho voluto approfondire un filosofo della scuola di Chartres, cioè un filosofo precedente alla rivoluzione aristotelica. Io vi ringrazio e spero che tutti i punti siano chiari e si siano capiti. Ovviamente commentate, condividete e seguite Studio Noisis. Noi ci sentiamo in una prossima puntata. Intanto grazie mille.